Professore Sama, festa dei lavoratori, si può parlare di lavoro oggi? Sì, certamente, si deve parlare di lavoro, anche se non è più concettualizzato nelle forme tradizionali. Il lavoro adesso non è più come un tempo, un lavoro sicuro, certo, per tutta la vita. È un lavoro frammentato, un lavoro disarticolato, però certo, le nostre società si fondano sul lavoro, si deve parlare di lavoro. Lei vive in Inghilterra, ecco, tra l'Italia e l'Inghilterra c'è una differenza per quanto riguarda il lavoro? Sì, c'è una differenza intanto sul mercato del lavoro. Il mercato del lavoro britannico è molto più aperto, molto più incerto anche, mentre il mercato del lavoro italiano è ancora più chiuso, più conservato. Certamente poi c'è una presenza di molteplici tipi di lavoro. La cosa che li accomuna, però, è la precarizzazione dei giovani. L'accesso al mercato del lavoro per i giovani è precaria ed è difficile. E questo vale in Italia, nel Regno Unito, ma vale in tutto il mondo occidentale. Se lei fa un conto che, per esempio, i giovani, sia qui che nel Regno Unito, ma anche in giro per l'Europa, una volta laureati, fanno del scrivere curriculum, curricula e mandarli un'attività post laurea e non vengono occupati in funzione dell'esperienza. Il paradosso è, sia in Italia che nel Regno Unito, i giovani possono accedere al mercato del lavoro se hanno esperienza. Ma dove si vanno a fare queste esperienze se non sono occupati? Crotone una volta era una città, un'isola felice, perché i figli degli operai, quando c'erano le fabbriche, andavano all'università, si laureavano, tornavano e lavoravano. Oggi c'è un deserto. Qui stiamo parlando di una vicenda storica, specifica, ma non unica. Noi stiamo vivendo oggi la lunga fine del neoliberismo che ha distrutto il tessuto produttivo di Crotone, come anche di altre aree industriali in Italia e in Europa, non sostituendolo con altre idee di sviluppo. Quindi quello che le descrive è la fine di un modello che non è stato sostituito da un nuovo modello di sviluppo che non consente quindi il ricambio generazionale. Tengo anche conto un altro fatto, che quello che le descrive era un mondo in cui l'università, lo studio, era un ascensore sociale. Adesso quell'ascensore sociale è bloccato. Anche persone, giovani con la laurea, fanno fatica a lavorare e devono accettare, se vogliono lavorare, anche lavori in cui la loro laurea, la loro competenza non sono valorizzata.